Si è chiuso ieri l'Ulisse Fest, il festival della guida di viaggi in Lonely Planet che per il secondo anno si è tenuto a Pesaro con un centinaio di appuntamenti e ospiti legati al mondo del viaggio e a riflessioni di respiro internazionale. Domenica di chiusura in cui è stato presente a Pesaro anche Bill de Blasio, ex sindaco di New York che nel cortile dei musei civici ha intrattenuto una chiacchierata col sindaco di Pesaro Matteo Ricci su tematiche relative all'amministrazione sostenibile ed ecologica prendendo a riferimento i risultati di spicco raggiunti da una megalopoli complessa come quella new yorkese. Ricci ha cavalcato il progetto dell'arretramento della ferrovia riscuotendo il plauso di de Blasio su una deviazione infrastrutturale all'insegna del green già sperimentata da New York. Penso che entrambi gli esempi, ovvero quello relativo a New York e quello relativo a Pesaro, i lavori che si stanno facendo in queste due città, siano la prova esistente del fatto che il cambiamento è possibile, che possiamo cambiare finalmente il nostro stile di vita. Le persone si allineranno quando vedranno che c'è questa volontà di progredire, le persone adesso, i cittadini sono affamati di cambiamento. Per de Blasio la visita a Pesaro non sarà l'ultima, c'è già l'idea di tornarci in occasione del 2024, anno della capitale della cultura. Sono pronto, congratulazioni a Pesaro, un gran onore per questa città, sarebbe un gran piacere vedere tutte le feste, tutti gli eventi per quest'anno meraviglioso.